Cari studenti, sono Marcello De Rosa, il presidente del corso di laurea in economia e commercio. Iscriversi al nostro corso di laurea vuol dire iscriversi al corso di laurea che ha il tasso di soddisfazione degli studenti più alto a livello nazionale, certificato dai dati AMA laurea. Vi insegneremo i fondamenti della micro e della macroeconomia, vi daremo una solida formazione imprenditoriale, sarete in grado di progettare una start-up, sarete in grado di redigere un business plan, vi insegneremo i metodi quantitativi per l'analisi economica, vi daremo anche la possibilità di studiare all'estero, di fare una parte dei vostri esami all'estero, la tesi all'estero, un tirocinio e vi daremo altre competenze di natura trasversale molto richieste sul mercato del lavoro. È il motivo per cui il tasso di occupazione dei nostri laureati triennali è tra i più alti a livello nazionale. Vi aspetto, in bocca al lupo. Buongiorno ragazze e ragazzi, sono Francesco Ferrante, insegno economia politica e sono il prorettore al placement e al trasferimento tecnologico. Qual è un buon motivo per iscriversi al corso in economia e commercio? Il nostro è un mondo che cambia molto velocemente e per adattarsi al cambiamento e governarlo e soprattutto realizzarsi, occorre avere un bagaglio di competenze interdisciplinare, un bagaglio utile a comprendere il cambiamento, adattarsi ad esso in maniera proattiva. Sono convinto che il corso in economia e commercio fornisca questo bagaglio, quindi sicuramente, io credo, se sceglierete questo corso sarete in grado di realizzarvi. In bocca al lupo a tutti. Ciao ragazzi, sono Claudio Marcello, laureato all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, attualmente funzionario della Covip, l'autorità di vigilanza sui fondi pensione. Se ad oggi dovessero chiedermi quale corso di laurea sceglierei, sicuramente economia e commercio, perché è un corso che attraverso un approccio interdisciplinare permette di avere determinate conoscenze, sia quantitative che qualitative, in diversi ambiti, economico, finanziario, statistico, giuridico, conoscenze utili, sia a capire la logica di funzionamento di determinate realtà, come ad esempio i mercati finanziari, che a capire i cambiamenti del mondo che ci circonda. Ritengo che il corso di laurea in economia e commercio sia utile per una realizzazione personale nella vita di tutti i giorni e per una realizzazione professionale. In bocca al lupo! Ciao a tutti, sono Monica Fragnoli e coordino l'Ufficio per la Didattica di Area Economica, l'ufficio che supporta gli studenti durante l'intero percorso accademico, dal momento dell'immatricolazione fino al momento della laurea. Il nostro ufficio si trova alla Folcara, al quinto piano, e potrete rivolgervi a noi per tutte le questioni didattiche, come lezioni, esami, piani di studio e tiroscini. Vi aspettiamo! A presto!